Ma chi è Don Giussani? È un prete qualsiasi della diocese di Milano. L'uomo non può immaginare un problema più grande per la sua libertà. Cristo sì o no? E' sempre rimasto nella sua gravità di profeta, di uomo dei miracoli. Donna, non piange, disse. E' restituito il figlio. Ma disse prima donna, non piange. Un uomo che non viva un momento così con la sua donna, non ha mai amato la sua donna, mai. Un padre ed una madre sono tali non solo perché danno latte prima e risotto dopo al figlio che cresce. Ma un padre e una madre danno loro stessi. Un padre dà sé stesso al figlio. Con il mio padre, quindi un cantore al mio letto, mi raccontava la parabola di Enrico Eppulone. Lui era un socialista accanito. E ciò, tutte le sere Enrico Eppulone. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo è Basta? Sì. Sì.